Noi siamo la Valdemmi Moto, la nostra azienda è nata nel 2007 come negozio, siamo appassionati di tutto quello che riguarda il motore, siamo di Genova, credo che siamo uno dei pochi negozi che si occupano di Motard Genova, siamo nati molto, molto, scusate, abbiamo iniziato molto in Sordina e nel 2012 siamo diventati campioni italiani di Motard e quest'anno abbiamo con Daniele Di Cicco, vinto di nuovo la categoria Open per la seconda volta campionato di Daniele. Il pilota è stato scelto perché per noi il più importante è la via, noi crediamo molto in Daniele Di Cicco, è stato scelto perché già lo conoscevo, perché nell'ambito gare già conoscevamo Daniele, c'è stato diciamo un amore a prima vista quando abbiamo approvato le nostre moto ma più che altro è stato l'ambiente che credo che lui abbia trovato e che per noi è fondamentale per fare una bella stagione. La moto è un'onda 450 2014 completamente preparata da noi, quindi a livello sia sospensioni che motore, con varie lavorazioni, sempre seguita da noi, non ci sono diciamo componenti esterni. Nel 2017 speriamo di stare in nome insieme a Daniele, salire quindi di categoria e fare un'ottima stagione. Grazie a tutti!